Paranoia Agent è una serie anime del 2004 composta da 13 puntate della durata di circa 23 minuti per ciascun episodio ed è firmata da un maestro assoluto dell'animazione giapponese, Satoshi Kon. Poetico e visionario, quest'autore univa un'immaginazione apparentemente senza fine a un rigore stilistico che gli ha permesso di creare quattro capolavori del cinema di animazione. Ma della sua affolgorante e tristemente breve carriera abbiamo già parlato in un'altra puntata di questo podcast. Paranoia Agent è il suo unico prodotto seriale e risente dal punto di vista del disegno e dell'animazione di un budget inadeguato che però controbilancia con una storia dalle molteplici stratificazioni e che, nel rispetto della poetica di questo regista, parla del subconscio, del sogno, dell'immaginazione come potenziali vie di fughe salvifiche. Ma anche come trappole mortali. Questa serie è una discesa negli inferi dell'isteria di massa che parte dal suo opposto, ovvero la solitudine disperata di noi cittadini del postmoderno, subissati di richieste cui non sappiamo dire di no, vessati dal nostro sentimento di inadeguatezza, talmente colmi di livore e frustrazione da riversarlo negli altri e creare un mostro annientatore. Per spiegare il perché di questo titolo, Kon scrive La paranoia possiede un'immagine, un significato più forte rispetto alla fantasia. Delirante, direi. La parola dà l'impressione di una persona che vuole consapevolmente essere folle. Beh, per poter sopravvivere, ognuno di noi ha bisogno di qualcosa che sia lontano della realtà, come la fantasia, i sogni e forse anche la paranoia. Altrimenti, la vita può dimostrarsi incredibilmente difficile. Credo che ogni persona percepisca la realtà filtrandola, processandola, attraverso la propria fantasia o la propria paranoia. Vista in questo modo, non penso che la fantasia o la paranoia siano veramente dannose. Paranoia, quindi, come luogo protetto in cui consapevolmente ci rifugiamo da un mondo che ci pare per forza di cose ingiusto e cattivo. Ma chi è, allora, il paranoia agent, il rappresentante della paranoia? Sono io. Sei tu. Sono gli altri. E chiunque si rinchiude in un mondo autoriferenziale, mettendo a guardia un mostro? E chi sono le sue vittime? Ma la risposta è la stessa. Chi crea il mostro, subisce il mostro. Il luogo dell'immaginario creato dalla nostra fantasia paranoia è un luogo sicuro. Ma cosa c'è di più sicuro di una prigione? E quindi la paranoia è una realtà, rifugio, prigione, che ci difende dal mostro dell'angoscia e del sopruso che noi stessi abbiamo creato volontariamente o per una pura successione di eventi a catena. Ne sa qualcosa Zucchico. Il giovane designer impreda all'ansia di dover assolutamente bissare il grande successo di Maromi, una sorta di Hello Kitty al centro di un merchandise milionario. E ne sanno qualcosa due ragazzini degli elementari che si dovranno scontrare in una gara di popolarità. Nella società giapponese, anche i bambini, se falliscono, invocano l'arachire. Tutti diventano vittime di Shonen Bat, ovvero un giovane teppista armato di pattini e di una mazza da baseball dorati che appare le persone sotto stress e le riduce in fin di vita a suoni mazzate. A indagare su questa serie di aggressioni, ci sono due detective che, come da copione, sono un vecchio saggio disilluso e un giovane idealista dalla mente aperta, ma nessuno di costoro può definirsi veramente il protagonista. Le violenze di Shonen Bat non sono il focus, non sono l'enigma da risolvere. Alcuni personaggi addirittura le invocano come liberazione da qualcosa di più terribile e opprimente, come il giudizio della società. Le aggressioni sono il pretesto che il regista usa per disporre tutte le sue pedine, come marionette e rappresentazione dei disagi e dei mostri della modernità. Il vuoto creativo, il primeggiare a ogni costo, la vergogna per la propria natura, il salvare le apparenze, la vecchiaia come peso di cui sbarazzarsi, il suicidio come via di fuga e, appena suggerito, persino l'orrore della pedofilia. La realtà di questa narrazione è che Satoshi Kon decide di mostrarci il retrobottega dei nostri pensieri, di squarciare il velo che separa la realtà vissuta da quella immaginata. Chi distorce la realtà per autogiustificarsi, fino al paradosso, arriva a creare un mondo bidimensionale perché non è più in grado di accettare la complessità delle cose. Emblematici sono gli episodi con un protagonista e una giovane a modo con una doppia vita da escort che si ritrova a dialogare con la propria alter ego attraverso i messaggi di una segreteria telefonica o quello di un poliziotto corrotto che sembra direttamente uscito da cattivo tenente di Abel Ferrara che ha di sé la percezione come di un paladino della giustizia. Il tutto in una Tokyo notturna, fatta di uffici male illuminati, strade buie e spazi angusti in cui ricavare un'apparvenza di umanità e intimità. Questa prima tranche di episodi quindi cerca di mostrarci un'azione lineare con vari personaggi che entrano in scena e intrecciano le loro storie più o meno strettamente, anche se le cose, invece di chiarirsi, appaiono sempre più confuse e a un certo punto pare proprio che la storia si perda e vada altrove. Il tritico di episodi 8, 9 e 10 infatti cambia completamente il registro e induce un senso da prima di straniamento, poi di incredulità e infine di sgomento. Nella sostanza assistiamo alla rivelazione della vera natura di Shonen Butt che da ipotetico teppista assorge il ruolo di perno centrale di una paranoia collettiva e che perde sempre di più una connotazione precisa per diventare la personificazione mostruosa del burnout, dell'esaurimento nervoso, dell'ansia da prestazione. Se sei sterile, è colpa di Shonen Butt. Se non sei magro, la colpa è di Shonen Butt. Se lo Space Shuttle esplode, la colpa è di Shonen Butt. Questi tre episodi sono satirici e grotteschi. Nell'episodio 8 si narra in maniera comica il tentativo di farla finita per tre aspiranti suicidi. In un rovesciamento dei punti di vista, qui la visita di Shonen Butt è sperata e il lieto fine dovrebbe coincidere con la morte dei protagonisti. Ma i forum degli aspiranti suicidi esistono davvero? In tutto il mondo? Nella successiva puntata, il grottesco si materializza nella figura di quattro massaie che, come dei bulletti, fanno a gara su chi conosce la diceria più assurda e grossa su Shonen Butt. Infine, nell'episodio 10, finalmente capiamo a che gioco sta giocando Satoshi Kon. Senza fare spoiler, tutta la puntata verte sul disvelare le disumani condizioni di vita e di lavoro degli studi di animazione. Lo stress, le umiliazioni, i ritmi alienanti e allucinatori. Ora, l'intento del regista è chiaro. Dietro un cartone animato per bambini dall'aspetto innocente si nasconde l'avvessazione. Il mondo dei manga, degli anime o dei videogame non esiste e rifugiarsi in esso non è altro che regredire a uno stato bestiare. Kon non era un moralista, ma da uomo sensibile quale è stato aveva compreso il problema degli otaku che, rifiutando la realtà, sarebbero diventati i kikomori. Quelli che sembravano essere degli episodi filler senza connessione, in realtà fanno da apripista il finale in cui appare evidente che l'escapismo dal mondo reale attraverso i sogni e la fantasia sono strumenti pericolosi e potenti. da maneggiare con cura. Ma allo stesso tempo è inevitabile cascarci dentro perché tutti noi viviamo in un mondo di illusioni, di sogni autoindotti. Siamo imprigionati nelle nostre rappresentazioni e chissà che direbbe oggi questo regista se vedesse il distacco schizofrenico tra i nostri io reali e i nostri io virtuali, quelli dei social network che diffondiamo nel mondo come nostri rappresentanti. grazie a tutti i 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 nostri rappresentanti. Grazie a tutti.